Maria è la madre che ascolta e senza la sua intercessione non si può raggiungere quel rapporto con il Signore che cerchiamo e di cui abbiamo bisogno. Con questa consapevolezza la comunità di San Martino a Zoagli si è riunita domenica mattina per celebrare la festa della Madonna del Rosario, un momento molto sentito dai fedeli della parrocchia Zoaglina che quest'anno, nel rispetto delle disposizioni anticontagio, hanno dovuto rinunciare ai tradizionali momenti della sparata del panegirico e della processione dell'arca. Per l'occasione il parroco di Borzonasca Don Daniele Beronio ha presieduto la Messa Solenne. Nell'Omelia ha parlato della bellezza e di come sia un desiderio ed un bisogno allo stesso tempo per tutti gli esseri umani, bellezza che per i cristiani nella storia della salvezza è rappresentata da Maria. Sicuramente è ricordarsene nella nostra giornata che noi davvero siamo dipendenti dal Signore attraverso l'intercessione di Maria che davvero lei è quella madre che ascolta ciascuno di noi, però per ascoltare bisogna che ci sia qualcuno che la invochi, che la preghi e quindi credo che anche essendo ottobre il mese del rosario sia una cosa bella se davvero riprendiamo in mano la nostra coroncina e ci mettiamo lì davvero con spirito grato e anche desideroso di chiedere ovviamente a lei quelle grazie di cui noi abbiamo bisogno. Quest'anno sicuramente molti sono tornati a pregare, vorrebbe imparare la continuità forse? Sì, direi di sì, che la continuità è importante, non soltanto nei momenti di bisogno ma in tutti i momenti belli della nostra vita noi siamo chiamati a ringraziare pregando il Signore per quello che ci dà. La celebrazione di ieri, la prima domenica di ottobre, è stata anche l'occasione per ricordare l'inizio del mese del rosario, un motivo in più per ricordarsi della Madonna e nel quotidiano attraverso la preghiera entrare in contatto con lei. Naturalmente, come per i rapporti umani, sono fondamentali la continuità e la fedeltà. In questo senso, come ricorda Don Daniele, il momento difficile della pandemia è stato per qualcuno una spinta a riavvicinarsi a Maria e pregarla più frequentemente. Veniamo alla Chiesa. Ha annunciato l'inizio imminente dei lavori di restauro. In che cosa consisteranno? Innanzitutto devo ringraziare il nostro Consiglio per gli Affari Economici, che è molto solerte, attento e operativo. Sono già cinque anni, nel momento del mio ingresso qui nella parrocchia di San Martino, che avevamo custodito questo sogno e anche lavorato dietro le quinte. È arrivato finalmente il momento, pensiamo nel 2021, di poter dare atto anche alle opere esterne. Si tratta del restauro delle coperture e delle facciate laterali. Che problemi c'erano? Che problemi avete riscontrato su queste strutture? I problemi sono purtroppo evidenti, nel senso che in una gran porzione del tetto siamo già dovuti intervenire proprio di corsa per un'emergenza, mentre invece le parti laterali mostrano dei segni di deterioramento che si allargano a macchia d'olio. Veniamo alle cifre. Sapete già la spesa e quali finanziamenti arriveranno? La spesa è superiore ai 700 mila euro. Dovremo fare chiaramente tutte le varie richieste, le varie ditte. Faremo questi lavori in due lotti successivi. Come riuscirete a coprire questa spesa? La spesa si copre innanzitutto dalla buona volontà della comunità. La sentiamo come un lavoro nostro. Questo ci tengo tantissimo, proprio perché non è sempre che ci penserà qualcun altro. Quindi lo sentiamo come nostro e l'affetto ci muove a provvedere. Poi abbiamo ottenuto dei finanziamenti da parte dell'Otto per Mille che sono molto consistenti e anche lì abbiamo dovuto lavorare tantissimo per poterli ottenere, ma siamo contenti che dovrebbero arrivare. Quindi siamo molto contenti di avere a disposizione. Noi sappiamo che la CEI attraverso l'Otto per Mille svolge un lavoro molto concreto, molto concreto, a servizio della nostra comunità. E le siamo grati.